Le stelle di Azus Il vostro buon umore vi aiuterà parecchio sul lavoro e anche in amore potete sperare di ricevere dal partner tutto quello che avete sempre desiderato. Leone potete contare sull'aiuto di persone amiche per superare un ostacolo sul lavoro. In amore pretendete di avere sempre ragione ma siete anche molto simpatici. Vergine, la luna nel vostro segno vi regala un intuito straordinario. Sfruttatelo per prendere una decisione in merito ad una proposta che riceverete sul lavoro. Bilancia, non fatevi prendere in contropiede sul lavoro. Rispondete colpo su colpo a tutte le iniziative della concorrenza. In questo momento siete invincibili. Scorpione, la mattinata può regalarvi belle soddisfazioni sul lavoro ed emozioni inaspettate in amore. In serata non prendete troppi impegni, avete bisogno di tempo libero. Sagittario, con questa luna difficile dovete far leva sulla vostra praticità per portare a termine gli impegni di lavoro. Non perdetevi in inutili giri di parole. Capricorno, potete riprendere fiato dopo esservi impegnati tanto sul lavoro nei giorni scorsi. Ritagliatevi dei momenti di relax e godetevi la compagnia degli amici. Acquario, in amore prevale la superficialità. Siete molto attivi quando si tratta di vivere nuove esperienze, ma vi tirate indietro di fronte ad ogni responsabilità. Pesci, mettete ordine nella vostra vita professionale. Alcune situazioni richiedono un'analisi approfondita che deve essere imparziale. Ascoltate anche qualche consiglio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Grazie per la visione!